Musica 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 Ma siamo di qua? Ma Ale, di qua ci siamo già passati, sei sicuro? Musica Ma guarda, è stata giusta, guarda Secondo me no Musica 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 Ehi, ma, le avete sentire voi? Che cosa? Quella è una chiesa! Esatto, lo sapevo io che la storia era quella giusta, forza dai andiamo! Magari c'è qualcuno Non so il caso di entrare in questa chiesa La vedo un po' rischiosa, non lo so Mi dà come un'aria strana C'è qualcosa di nascosto Ragazzi, teniamo gli occhi aperti Non so ne sognavo gli occhi aperti Siamo bloccati Dobbiamo trovare un altro modo per entrare Ma cosa sono questi? Non mi piace, vedi, lascia giù Andiamo Questa è aperta C'è anche il mucchetto rossa Vediamo come c'è Mi stai pensando A due amici Forse è venire A due amici A due amici Dai Andrea Tu che sei più agile Vai giù a vedere Questo è aperto Cosa c'è? Secondo me c'è qualcosa Da lì Ma dove è Andrea? Io non l'ho più vista Oddio È nato giù? Andrea 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 Non lo sai mica è sceso Andrea Come sei Andrea? Rispondami Andrea Cosa hai trovato? Ho trovato qualcosa Cazzo Ancora Finisco mai È mio Dio È mio Dio Chiara Ragazzi avete visto Chiara? No È arrivato qui Io non la trovo Chiara 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 dove sei? Chiara Chiara Dio ma questo è un cilitero Dio ma questo è un cilitero Chiara 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.